Secondo giorno di protesta a Comiso, hanno trascorso la notte al diaccio gli operatori commerciali, gli autotrasportatori, gli agricoltori che hanno aderito alla protesta a forza d'urto. Una protesta che oggi cresce ed è sempre più chiaro per chi è sceso in piazza e sulle strade quali sono le ragioni, quali sono le richieste. I risultati arriveranno. Intanto secondo me bisogna scendere due cose. Abbiamo bisogno di risultati a breve termine e altri tipi di risultati molto più importanti che devono essere discussi nella sede opportuna con le persone di competenza. Nel breve tempo io credo che il nostro governo debba necessariamente venire incontro alle esigenze di tutte le categorie produttive, autotrasportatori in particolare, agricoltori. Bisogna che ci siano due iniziative importanti. La riduzione immediatamente dei costi del carburante, ma non di 10 centesimi perché credo che questo non comporterà nulla. E in secondo luogo il banchiere Monti assieme a tutti gli altri organi istituzionali che ci rappresentano in Europa e in ambito nazionale debbano dare delle linee di credito immediate subito alle imprese per poter superare nel breve periodo questa fase di difficoltà economica.